Saverio Mirarchi, presidente della Lega di Lettanti del Comitato di Catanzaro. Siamo qui allo stadio Antonio Leo per il Memorial Angelo Colossimo e Sandro Spina che ha visto controporsi le vecchie glorie del Catanzaro con quelle della locale Garibaldia. Un bel momento di condivisione, di amicizia nel ricordo ovviamente di chi purtroppo non c'è più ma quello che ci rimane è ovviamente aver trascorso un pomeriggio divertendoci, giocando a calcio, facendo quello che ci piace fare per quanto mi riguarda non solo dietro la scrivania ovviamente che è l'impegno più gravoso che ho in questo momento ma anche in mezzo al campo così come facevo una volta. Quindi grazie alla Garibaldina, grazie alla società, alla città di Soveria Mannelli che ci ha dato l'opportunità di trascorrere questo pomeriggio insieme. Grazie. Grazie.